Assessore Carrara, la Giunta ha approvato oggi le linee operative generali del piano di emergenza di protezione civile. Ma sì, un passaggio importante è quello di oggi che vede più vicino il traguardo di questo importante strumento di pianificazione quale il piano di emergenza provinciale di protezione civile. È stato un lavoro lungo, durato dal mese di marzo 2011 fino ad oggi. È stato redatto ovviamente in collaborazione, in sinergia con tutte le forze dell'ordine, con la prefettura di Bergamo e tutti gli enti che si occupano come noi di sicurezza e di protezione civile. Il passaggio della Giunta di oggi lo proietta verso l'ultimo passaggio che è quello del Consiglio provinciale che è atteso per la fine del mese. Un dato importante direi da sottolineare è quello che per la prima volta uno strumento di questo tipo non viene redatto all'esterno attraverso una specifica consulenza ma attingendo proprio la professionalità dei nostri dirigenti, dei nostri funzionari che lo hanno portato avanti, oserei dire, in modo assolutamente egregio. Un altro dato importante è quello che tutte le segnalazioni che ci venivano dal territorio quindi dai sindaci, dagli enti, dalle comunità montane sono state tutte fatte proprie all'interno del piano quindi tutte le richieste che vengono dal territorio siamo riusciti a soddisfarle. Credo che sia una notizia importante per la sicurezza del nostro territorio e di riflesso della nostra gente.